E' stato presentato questa mattina all'Istituto Grazio Cossali di Orzinovi il progetto Expo Cossali, un'iniziativa nata per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e per coinvolgere in maniera attiva le aziende del territorio. Vi proponiamo l'introduzione di Michele Grazioli, rappresentante di Istituto e organizzatore dell'evento. L'Expo Cossali è un'opportunità per le aziende, le associazioni, i professionisti presenti sul territorio, ma anche e soprattutto per gli studenti e per le famiglie. E' una giornata in cui la scuola sarà aperta, mentre alcune realtà lavorative esporranno la propria attività e racconteranno al pubblico la propria storia. Sarà una sorta di fiera in cui ogni azienda, professionista, associazione fungerà da espositore e avrà la possibilità di allestire un proprio stand. E' rivolto a tutte le aziende della zona, ai professionisti e alle associazioni presenti sul nostro territorio. L'Expo si terrà sabato 1 marzo, dalle 9 alle 11 e in seguito ci sarà la premiazione del concorso Sito Web Cossali. L'inscrizione sarà online fino a mercoledì 26 febbraio e il buon Mario allegherà qui sotto il link dove potersi iscrivere il documento che spiega nel dettaglio l'iniziativo. Arrivederci a sabato! Grazie a tutti!